Regione Toscana, il Consiglio regionale. Tra i temi affrontati in Consiglio regionale nella seduta di inizio gennaio si è parlato di costa e di porti. In particolare c'è stata l'approvazione del bilancio dell'autorità portuale 2023 e un aspro confronto in aula tra la maggioranza e l'opposizione. Si è parlato anche della problematica soprattutto del porto di Viareggio con le problematiche legate alle assunzioni e anche alle difficoltà che hanno i pescatori. Il Consiglio regionale della Regione Toscana prevedeva un sabbiadotto che non è stato realizzato ma noi ascoltiamo per tutti i dettagli le interviste con i consiglieri regionali per affrontare questo tema delicato della costa. Il bilancio dell'autorità portuale, bilancio preventivo 2023, giunge all'attenzione dell'Aula all'inizio del 2024. Credo che basti questo e lo ha detto anche la Presidente della Quarta Commissione nell'esporre l'atto per capire quale motivazione sta alla base del voto contrario della Lega. È inaccettabile un quadro di questo genere. Ma l'occasione è stata importante per aprire un ragionamento su quello che sta succedendo a Viareggio nell'immediatezza dei fatti. Il Presidente Gianni è venuto a Viareggio ma probabilmente è stato un po' frettoloso nel dare alcune valutazioni positive perché l'insabbiamento del porto di Viareggio, dell'avanporto di Viareggio, stanno assumendo una situazione di tale gravità per cui i pescatori non sono in grado di lavorare. È due mesi e mezzo per una motivazione o un'altra che già hanno blocchi di attività e incapacità di lavorare per quanto è accaduto. E quindi è necessario, noi l'abbiamo ribadito anche quest'oggi, nel sopralluogo fatto con la Quarta Commissione, che finalmente si porti a Viareggio una draga in grado di lavorare, perché questa non lavora come c'è un po' d'onda, non può uscire, si liberi finalmente nell'immediatezza quello che è il canale che normalmente viene usato per poter entrare e uscire dal porto di Viareggio e si metta in grado di lavorare i pescatori che hanno purtroppo una situazione di grandissima difficoltà, rischiano con le spese che hanno e con le poche giornate di lavoro che hanno avuto a disposizione di chiudere battenti, tant'è vero che minacciano di andarsene da altre parti e ricordo che la manerineria via Regina è la più importante della Toscana, oppure chiedono addirittura la chiusura e si rischia la chiusura del porto. Dal parte nostra abbiamo chiesto e insistito anche adesso in aula per aprire un ragionamento in modo da trovare risarcimento e ristori per queste attività, per le imprese, per le cooperative, per le famiglie che oggettivamente vivono di questo lavoro e rischiano di non arrivare più alla fine del mese. Ma un ragionamento più grande va fatto, l'ho detto in aula poc'anzi, anche con riferimento a quello che è un quadro generale che il porto di Viareggio vive di difficoltà di insabbiamento ormai da troppi anni. Il sabbiodotto è ancora in ritardo e discutendone in Commissione Quarta insieme al Commissario dell'Autorità Portuale si parla di fine 2025 e inizio del 2026. Comune di Viareggio e Regione Toscana che dovrebbero dialogare su un tema così delicato in realtà litigano per le poltrone, tant'è vero che non abbiamo ancora un segretario dell'autorità portuale, c'è solo un commissario, perché non si mettono d'accordo fra Regione Toscana e Comune di Viareggio e questo è ormai da anni che è così, non si mettano d'accordo sul regolamento portuale, che anche quello è un passaggio importante perché a Viareggio il porto entra dentro la città, regola tutta una serie di elementi di vita della comunità portuale e anche qui siamo indietro sulle risposte. Il nostro voto è stato contrario perché per due motivi, di merito, perché non condividiamo molte scelte e molti ritardi che ha accumulato l'autorità, ma anche di metodo perché portare un bilancio preventivo 2023 quando siamo già nel 2024 segnala che in questa regione c'è un vizio patologico, cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti e questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto, che in realtà non è stato realizzato, c'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio. La sostanza è che il sabbiodotto non c'è, i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche, oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità assolutamente grave per tutte le altre attività. Per questo, come Fratelli Italia, abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza da parte dell'autorità portuale e di mamma regione perché non hanno in questi anni garantito ciò che si erano impegnati a fare, cioè un sabbiodotto degno di questo nome e garantisca al porto di Viareggio di poter funzionare e di poter in qualche modo fare economia per la Toscana. È stata chiaramente in una situazione molto difficile che noi abbiamo molto a cuore e sulla quale ieri mattina abbiamo anche dimostrato, credo, in maniera molto concreta e fattiva l'interesse della regione per il porto di Viareggio, ma soprattutto per la situazione difficile in cui si vengono a trovare i pescatori, che non abbiamo assolutamente intenzione di abbandonare, anzi, stiamo valutando con l'autorità portuale, insieme al Comune, insieme anche a loro che abbiamo coinvolto al tavolo tecnico perché credo sia anche giusto che poi chi sta non sul campo in questo caso ma direttamente vive il mare tutti i giorni debba essere anche ascoltato e considerato e questo credo sia un traguardo molto importante. Continueremo a lavorare, monitorare il tema della draga perché il tema dell'insabbiamento c'è, con finanziamenti anche cospicui, c'è un impegno della regione importante sull'insabbiamento, quindi ecco, io credo che stiamo andando in una direzione in cui il porto tornerà ad essere un porto centrale perché poi Viareggio è effettivamente una piazza nazionale, è un porto nazionale con un'importanza anche internazionale e quindi da parte nostra c'è la massima attenzione sul monitoraggio dell'attività portuale, stare vicino ai pescatori e provare a rilanciarlo tutti insieme. Il Consiglio regionale si è confrontato sull'Arts, l'Agenzia regionale di sanità, è stato un confronto tra maggioranza e opposizione soprattutto sulle attività e sugli elaborati che ha proposto il Consiglio regionale. Noi ascoltiamo i consiglieri di maggioranza e opposizione per capirne di più e affrontare questo tema. Sì, abbiamo approvato l'atto di indirizzo che serve appunto, poi verrà ripreso da un'ulteriore delibera di giunta e che stabilisce l'atto con il quale si danno le indicazioni sull'attività di ricerca che l'Agenzia regionale dovrà svolgere in questo anno, cioè nel 2024. Un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'Arts dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca che vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali, alle ricerche epidemiologiche, a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento fondamentale perché tutte le decisioni politiche anche fuori della sanità ma sicuramente in ambito socio-sanitario si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione e quindi il lavoro dell'Agenzia è assolutamente fondamentale. Dunque su Arts è un organo molto importante che in commissione noi abbiamo approvato e quindi poi abbiamo fatto voto favorevole in aula, anche se ritengo che Arts abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli, cioè questa sanità malata, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, non possiamo pensare che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi. Per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore, questo è un ordine del giorno che è stata approvata all'unanimità con l'ultima legge di stabilità e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che Arts si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. Conferenza stampa nel Palazzo del Pegaso a Firenze per il Carnevale di Foiano. Sono 485 le edizioni e nel 2024, la prima domenica sarà il 28 di gennaio. È stata una conferenza stampa vissuta con tutti gli amministratori del Comune di Foiano, con i consiglieri regionali e il Presidente del Carnevale. Saranno sicuramente delle domeniche intense in Val di Chiana, nel Comune di Foiano della Chiana e noi con i colori e i carri dei quattro cantieri andiamo a scoprire il programma. Le tematiche dei carri ovviamente ancora non le conosciamo perché il nostro Carnevale, come sapete bene, è molto segreto. Fino alla prima domenica nessuno sa quello che c'è dietro a quelle porte. Per quanto riguarda noi, quest'anno abbiamo deciso di riportare in piazza la Zinfa Rosa, che sarebbe stata la moglie di Reggio Condo, che era stata un po' accantonata come progetto negli ultimi anni. Si parla che l'ultima uscita, mi sembra, si parla del 79. Quest'anno, anche per dare risonanza a tanti temi che sono delicati, soprattutto per quanto riguarda l'ambito femminile, abbiamo deciso di riportare anche nel nostro manifesto storico la figura della Zinfa Rosa. Più che novità, si riparte con tanta voglia e tante motivazioni. Quindi noi abbiamo i quattro cantieri del Carnevale che volontariamente costruiscono questi giganti in carta pesta e la novità è quella della prima domenica del 28, dove i cittadini foianesi e non solo vorranno ammirare questa meraviglia. Quindi è un grazie a tutti i quattro cantieri che voglio nominare, che sono Azzurri, Bombolo, Rustici e Nottamboli, e al Comitato del Carnevale che ci permette, insieme al Comune, di organizzare una manifestazione unica, l'unico Carnevale che sfila nel centro storico. Quindi un unicum assoluto, oltre a quello di essere alla 485esima edizione come Carnevale più antico d'Italia. Lavorano tanto tempo e soprattutto lavorano in una realtà che ha ormai consolidata nel Paese l'amore per questa manifestazione. Sono quattro i cantieri, sono oltre 50 le persone che lavorano proprio fisicamente, però sono centinaia le persone che poi partecipano per il proprio cantiere. Quindi insomma, tenendo conto che è un Paese, una città di pochi o più di 9.000 abitanti, avere più di mille persone che si interessano a questa manifestazione, significa aver radicato questo in questo territorio. Le edizioni sono centinaia, noi ne abbiamo vissute molte. La Regione ospita dal 2019 la presentazione di questa manifestazione in Consiglio regionale proprio perché crede che valorizzare le manifestazioni significa far conoscere il territorio. Il modo con cui, attraverso il sorriso, la spensieratezza, si prova a ripartire, però oltre ad essere un momento di festa, un momento di gioia, si mandano anche messaggi molto importanti, molto forti. Condivido molto la scelta degli organizzatori di lavorare intorno ai carri allegorici per mandare un messaggio contro le violenze sulle donne. Davvero un momento triste quello che stiamo vivendo nel nostro Paese. Tante sono le violenze, troppe. Se soltanto una donna partecipando al Carnevale riesce ad avere la forza di denunciare, credo che, oltre a far divertire, questo Carnevale manda un messaggio sociale molto forte. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti i volontari. Senza di voi, senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Devo dire che questo Carnevale impegna gran parte della popolazione del volontariato di Foiano per tutto l'anno per presentare dei carri allegorici che sono veramente molto, molto belli, che sono paragonabili a quelli del Carnevale di Viareggio, addirittura del Carnevale di Rio, tanto per scomodare anche quello che forse è il paradiso del Carnevale. Quindi l'invito è veramente quello di dare soddisfazione a tutti questi volontari, all'amministrazione comunale che tutto l'anno fanno di questo appuntamento un appuntamento strategico per il quale lavorano.